Bisogna andare all'origine di questo problema, bisogna insieme alla Regione Calabria trovare una soluzione per tutti i comuni. Chi pensa di strumentalizzare la posizione di altri comuni per avere magari un po' di visibilità, francamente trova in me un muro forte. Farsi la guerra tra sindaci è come farsi la guerra tra poveri. Il problema c'è, va risolto insieme. Non trovo un atto corretto accusare senza le giuste prove, perché un pubblico ufficiale che ha delle prove deve andare a denunciare e non pubblicarle su Facebook, un comune, delle attività che rendono lustro a questo comune senza appunto le dovute prove. Quindi penso che bisogna un pochino tutti essere più responsabili e più cauti quando si fanno determinate accuse. Grazie a tutti.